Quasi un milione di euro è la cifra che Mirko e Lorenzo Alessandrini, marito e figlio di Guerrina Piscaia, hanno chiesto alla diocesi di Arezzo Cortone Sansepolcro e all'ordine dei Premostratensi, al quale apparteneva Gretiena Labi, come risarcimento. La causa civile prosegue così a quasi dieci anni di distanza dalla scomparsa della mamma di Caraffello. Il giudice Fabrizio Pieschi ha infatti rigettato tutte le eccezioni delegali della Chiesa e dell'ordine religioso contro l'azione promossa dalla famiglia Alessandrini. Secondo il giudice ci sono dunque presupposti per tenere viva la causa senza precedenti al mondo. In sede penale i giudici avevano già disposto per l'ex sacerdote una provvisionale di 100.000 euro, ma Labi non ha nulla e quindi non ha versato e molto probabilmente non verserà nemmeno un euro. Il peso però adesso in caso di condanna potrebbe ricadere su diocesi e ordine religioso che dal canto loro sostengono tramite i propri legali che Gretiena Labi abbia agito da privato cittadino e non nella funzione di sacerdote, loro dunque con risarcimento non c'entrano nulla. La prossima udienza è stata fissata per l'inizio del 2024 quando gli avvocati della famiglia Alessandrini presenteranno le proprie memorie. In questo procedimento Labi che si trova in carcere a scontare 25 anni di reclusione per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della donna mai ritrovato sarà giudicato in contumacia, non sarà presente e non ha nominato nessun legale che lo rappresenti. Anche le sorelle di Guerina Piscai infine hanno tentato una causa civile. Anche loro chiedono a diocesi e ordine religioso un risarcimento da un milione di euro.